La Svizzera, nel cuore dell'Europa, è una delle democrazie più antiche e più stabili al mondo. Il nostro paese è noto per la molteplicità di lingue e tradizioni e per il suo benessere con salari elevati e bassa disoccupazione. Formazione, ricerca, economia e politica. Godiamo di una posizione e di relazioni eccellenti. Non a caso molte organizzazioni internazionali hanno la loro sede in Svizzera. Non a caso siamo un apprezzato punto d'incontro della politica mondiale. La Svizzera offre sicurezza e libertà. Per tutelare questi valori sono necessarie istituzioni funzionanti, come il governo, la pulizia, i pompieri e la sanità pubblica. E qual è il tuo contributo? Oltre alle organizzazioni di professionisti, esistono tre sistemi di milizia in cui puoi impegnarti personalmente a favore della Svizzera. Primo, l'esercito. E la riserva strategica d'impiego del paese. L'ultimo elemento di sicurezza che interviene in caso di crisi. L'esercito difende il nostro paese e protegge i confini, le vie di comunicazione e altre infrastrutture importanti. Tuttavia è attivo anche in tempo di pace, per esempio in caso di inondazioni, frane, incendi boschivi o pandemie. L'esercito si prepara continuamente a tutti i possibili scenari di crisi. Questi includono la difesa dei nostri confini virtuali. Infatti, sempre più minacce e attacchi arrivano dal mondo digitale. Una seconda possibilità d'impiego per te è la protezione civile. Se per una limitazione medica non puoi prestare servizio militare, ma sei abile per la protezione civile, qui puoi mettere a frutto i tuoi punti di forza. Uno dei compiti principali della protezione civile è l'intervento in caso di catastrofi naturali. Accogliere, nutrire e curare sfollati, evacuati o rifugiati. La terza possibilità d'impiego è il servizio civile. Se nel reclutamento sei stato giudicato abile, ma a causa di un conflitto di coscienza non puoi prestare servizio nell'esercito di milizia, nemmeno senza arma, allora puoi svolgere il servizio civile sostitutivo. I compiti principali del servizio civile sono gli impieghi nel campo delle cure e dell'assistenza, la protezione della natura e i lavori di ripristino. Esercito, protezione civile o servizio civile, a prescindere da cosa scegli, con il tuo impiego fornisci un prezioso contributo a favore della libertà e della sicurezza del nostro Paese. Grazie.